Le faccio però una domanda da cronista, il tema è questo, si può rivedere o no? Questo PNRR su cui probabilmente c'è stata un po' di ideologia anche dall'Europa, voler escludere tutto il trasporto aeroportuale che però poi abbiamo visto, si dimostra che non è quello che inquina di più e visto che comunque non è sostituibile, diceva prima il professor Pallari, non è che decidiamo ora di smettere di prendere l'aereo, tanto vale renderlo un po' più sostenibile a livello ambientale o no? Intanto grazie, sono certo che tutto quel che dirò verrà usato contro me perché voi sapete che ancora dobbiamo dare le delege all'interno del Ministero, quindi sono certo che quel che dirò mi precluderà a qualsiasi delega sul sistema aeroportale, potrei anche farlo deliberatamente, che con lì evito di trovarmi il problema, però in via preliminare l'ha detto anche la Presidente Giorgia Meloni nel suo discorso di sediamento, l'ha ribadito ieri, riteniamo centrale ringraziare ASSO Aeroporti e tutte le organizzazioni in categoria perché per noi è fondamentale il confronto con i corpi intermedi che non deve essere però un audit e basta, deve essere anche una forma di elaborazione comune e congiunta, su questo dirò alcune cose in conclusione del mio intervento e quindi è un ringraziamento che formulo non in maniera diciamo fino a se stesse stucchevole e quindi grazie per l'opportunità, è anche un po' non la prima uscita, la prima uscita che ho fatto da Vice Ministro in questo ruolo che immeritatamente Giorgia Meloni ha ritenuto di consegnarmi è stata Conance, tutt'altro settore, ma proprio perché riteniamo che il confronto e l'alimentazione e il dibattito sui temi concreti sia il modo migliore per cercare insieme di superare alcune situazioni. e rispondendo quindi alla sua domanda c'è, io sono, adesso qualcuno dice, ah lei è un giurista perché sono avvocato, in realtà mi sembra un po' eccessivo, i giuristi sono altri, ho avuto modo di studiare, c'è un nodo che io non riesco a capire. nel momento in cui il PNRR ritiene di escludere gli aeroporti perché sono soggetti ritenuti o tutto il traffico aereo inquinanti, è un non senso, una poria logica, perché se tu mi dici che quello è un segmento altamente inquinante devi investire perché lo sia meno, altrimenti significa che non è inquinante e pertanto me lo escludi ma me lo incentivi come forma alternativa di trasporto, perché diversamente significa che tu mi dici, lì c'è un problema ma non ti do le risorse per risolverlo e vi decido di penalizzare. Allora, chiediamo un primo dubbio, la decrescita felice non fa parte degli obiettivi di questo governo, io ascolterò con grande piacere quando ci saranno gli esiti dello studio di cui parlava adesso il Presidente, quelle che sono le leve che riesce a movimentare, a rifornirsi insomma il settore del trasporto aereo e degli aeroporti in particolari perché abbiamo la vaga sensazione che sia abbastanza centrale, ecco non so perché, magari non sono proprio esperto ma crediamo che sia abbastanza centrale e allora in questo nel confronto che sarà franco, alcune cose ci diremmo in maniera anche abbastanza ruvida, altre troveremo alcuni elementi di confronto, io credo che vada però ribadito una cosa, non è possibile vivere una presenza di un aeroporto, certo va costruita quella conciliazione, sicuramente i cittadini non devono viverlo come un'afflizione, chiaramente deve esserci una sensibilità rispetto al tema dell'ecosostenibilità, del tema ambientale, ma non è possibile vivere la presenza di un aeroporto come una disgrazia sul proprio territorio, è un'opportunità una presenza aeroportuale perché costituisce un accesso rispetto a tutta la rete mondiale e su questo vorrei anche dire una cosa, o in forme di intermodalità diretta, in forme di con accessibilità, ma comunque la presenza di un aeroporto è un'opportunità per il territorio che va evidentemente sviluppata in forma compatibile e sostenibile, ma non può essere vissuta come una disgrazia, questo è un punto che il governo intende porre in maniera chiara, perché diversamente continuiamo a viverla come un'afflizione, con una contraddizione logica che fa il paio insieme a quello che dicevo prima sul PNRR e le cose non stanno assieme, io sfido chiunque, giustamente venivano ricordati i dati dalla nostra conduttrice che riferiva come viene visto il tema del trasporto aereo come altamente inquinante, ma nessuno razionalmente ipotizza che si possa fare a meno di un, o meglio, lo vede come un'opportunità, io vi prendo un piccolo esempio, scusatemi se evidentemente faccio un esempio di piccolo cabotaggio, io sono come dicevo prima un avvocato, l'altro giorno ho mandato un mio praticante a depositare un atto in una sede di staccate del comune di Bologna vicino, 60 km a un'ora e 10 di macchina e lui mi diceva faccio prima arrivare a Londra, e ha ragione, perché? Perché oggi la distanza non si misura più in chilometri, ma in tempo e questo è necessario comprenderlo perché altrimenti le nuove generazioni soprattutto, ma non solo quelle, viaggiano più veloci di noi e questo è un dato, pure questo, che il governo non ritiene di secondario livello e su questo vorrei dire una colla sul Fit for 55, è un obiettivo, non è un castigo. Allora quando noi prima sentivano dire anche il Presidente Di Palma che già a me è simpatico perché è nato il 25 ottobre come me, però credo qualche anno di differenza, lei è più giovane intendo dire questo ovviamente, però vorrei dire questo, l'obiettivo di una revisione del PNRR non nelle sue architetture fondamentali, ma in tutte quelle misure di corollario che però sono sostanza, per il governo è stato fin dall'inizio un obiettivo dichiarato, noi abbiamo preso il consenso degli italiani su questo, così come abbiamo preso il consenso degli italiani sull'esigenza di rispondere a una vocazione produttivistica della nostra nazione, sull'esigenza di elaborare linee strategiche che definiscono la centralità della nostra nazione e noi intendiamo rispettare gli impegni e la rivisitazione del PNRR in alcuni aspetti, anche rispetto al sistema aeroportuale, è un obiettivo che noi ci poniamo, non ci riusciremo, ci proveremo, ma lo faremo sulla forza dei contenuti e del merito e in questo credo che sia importante definire alcune cose. Quando prima parlavo dell'esigenza di una condivisione, i corpi intermedi non è che li devi ascoltare e poi dopo fare quello che vuoi, io credo che sia ragionevole, accoglie una richiesta formulata all'interno delle riservazioni del PNRR, tra l'altro se non sbaglio proprio verso aeroporti, ne ho letto un po', quindi può essere che abbia sovrapposto con informazioni, di condivisioni della data room, evidentemente al netto di ciò che è confidenziale e riservato, della data room su cui si sono elaborati alcuni punti fermi del piano nazionale, perché se non c'è una condivisione adatto con voi, poi non si costruisce una risposta congiunta, noi non vogliamo ascoltare e farvi presentare un piano preconfezionato, quindi l'elaborazione dei dati su cui si vanno a individuare gli aeroporti di interesse nazionale o le reti territoriali o altri elementi che giustamente voi avete osservato, avete riformulato all'interno delle osservazioni, è centrale, perché noi dobbiamo presentarci davanti all'Europa con una forma unitaria di difesa dell'interesse nazionale che fissi però, e qui devo essere chiaro, alcuni elementi che per il governo sono imprescindibili. Uno, il settore, la strategicità del settore e su questo rileviamo, non è colpa evidentemente di Enac, ma forse di chi prima guidava il di Castero, colpa nel senso di scelta politica, per una scelta politica legittima, che però per noi non è condivisa. Negli atti di indirizzo che, ai sensi, se non sbaglio, io chiedo sempre scusa, ma essendo un avvocato guardo un po' le norme, se non sbaglio, il 687 è il codice nella navigazione, quello che individua nel MIT il soggetto che deve elaborare gli atti di indirizzo. Giustamente Enac non ha reintrodotto un tema che per noi invece è fondamentale, la centralità del sistema nazionale in proiezione non solo europea, ma intercontinentale. Perché dice bene il Presidente di Palma quando dice che quando parte in un aereo da New York non sa neanche dov'è Frankfurt o dov'è Milano, ma questo è un problema che la politica deve risolvere e che noi insieme dobbiamo riuscire a sciogliere come nodo perché dobbiamo determinare un'attrattività rispetto a chi vuole e ritiene di operare sul nostro sistema. In questo voglio anche dire un altro dato, ritroviamo eccessivamente marginale il segmento riservato al cargo e crediamo sbagliato parlare di phase out del cargo. Noi riteniamo che al contrario si debba esplodere il tema del cargo perché noi riteniamo che su quello si giochi larga parte di quel volume di attrattività e di sviluppo che l'Italia deve saper generare. Poi chiederemo al Professor Paleari di elaborarci non solo l'input ma anche l'output perché nel momento in cui io riesco a portare fuori dal trasporto su gomma e fare invece operare su principi di intermodalità non solo in Italia ma anche dall'estero un'attrattività che ne so di Malpenso, di Brescia o di Grottaglie quando apriremo il sistema portuale su cui abbiamo elaborato alcuni passaggi. Qualcuno poi mi deve dire anche l'inquinamento che risparmia il fatto che noi li portiamo lì e risparmiamo quindi la nafta, il carbone, l'elettricità e quant'altro perché dobbiamo vedere anche quello che giustamente veniva richiamato come ciò che non c'è, cioè il saldo di positività nella sottrazione ad altre fonti di inquinamento. E credo che questo sia un dato non indifferente perché non è solo una somma di valori negativi quelli che il sistema aeroportuale genera, agendo su un'implementazione del sistema noi sottraiamo altre fonti di inquinamento. E credo che sia importante anche poterlo elaborare questo dato perché se noi diciamo che il sistema aeroportuale, mi sembra aver letto a livello europeo, è il 3,2% ho letto questo, guardi il fatto che io chiedo scusa, ma è il 3,2% dell'8% dell'apporto contributivo nelle emissioni di CO2 di tutto il sistema europeo? Cioè ricordiamoci che l'Europa genera emissioni per l'8%, per fortuna il professor Paliari annuisce e quindi mi conforta, è il 3,2% per l'8%? Stiamo parlando di questo? No, perché se poi dopo qualcuno pensa che noi dobbiamo penalizzare il sistema aeroportuale a livello nazionale, a livello europeo, declinando in ciò un depontenziamento della strategicità del settore nel sistema nazionale comunitario, quando magari Cina, India, Brasilia, Stati Uniti o altri, Australia, altri player, chiamiamoli così, invece implementano il sviluppo, questo significa penalizzare la centralità del sistema europeo in cui noi crediamo e in quel sistema europeo l'Italia deve essere protagonista. E questo noi lo diciamo con chiarezza, perché altrimenti continuiamo a limitare, voglio usare un linguaggio garbato, la centralità dell'Europa e dell'Italia in Europa a beneficio di altri mercati che non se lo pongono quel problema. E noi magari siamo lì a dire che dobbiamo ridurre il 3,2% del 100% dell'Italia dell'8% quando magari qualcun altro invece fa altre scelte. Questo noi non riteniamo sia plausibile. L'Europa, in cui noi crediamo, deve riconquestare una forza politica tale da poter dire, anche all'interno dei vari organismi, presentiamo le coppe che si svolgono, noi facciamo la nostra parte ma è necessario che il resto del mondo faccia la sua, perché altrimenti questo significa dover vivere con afflizione il nostro ruolo. Noi crediamo che l'Italia abbia una funzione centrale in questo, una funzione che noi vogliamo svolgere con voi, con tutti i soggetti. È per quello che io credo sia importante l'accesso alla data room, degli elementi che hanno portato all'elaborazione del PAN. Certo, è un cambio di paradigma, non è che io dica queste cose non consapevole del fatto che ciò comporta alcuni elementi di, non voglio dire di rottura, ma di cambio di traiettoria. Però, diceva bene il Presidente Di Palma, questa è una scelta politica e noi esercitiamo la scelta politica, ce ne assumiamo la responsabilità fino in fondo e questa è la direzione politica che intendiamo imprimere a questo settore. Va fatto garantendo sostenibilità, ridurre i rumori, ridurre le emissioni, ridurre l'impatto ambientale, ma ridurre non vuol dire azzerare o ridere un settore. Questo non è concepibile, perché oggi immaginare una nazione che non si poggia sul settore che voi rappresentate, significa essere fuori dai tempi. E in questo io mi permetto un'ultima riflessione, anzi due, non faccio politica e quindi bugio ogni tanto ne dico. Due, primo, tutto deve svolgersi in una cornice di interesse nazionale, ma in un concetto anche di, non voglio dire libero mercato, ma di concorrenzialità. Noi non intendiamo tutelare posizioni precostituite, ma chi ha buone idee ha anche finanziamenti, noi faremo la nostra parte, è giusto che possa giocarsi. Quindi chi crede che si possa giocare il tutto su una posizione pregressa, acquisita, magari con un piano che cristallizza e non proietta nel divenire ciò che noi vogliamo fare, deve un po' ripensare a se stesso. Il secondo, il settore ha costituito un motore culturale fondamentale. La mia generazione è una generazione che ha vissuto il prendere il treno, mi ricordo quando in prime volte dovevo andare ai movimenti giovanili, ho detto qualche amico che sa di che cosa parlo, partivo nel 1991, mia madre mi dava il gettone, faceva il segno della croce, ci mettevo cinque ore e mezza all'espresso da Bologna a Roma, sparivo per un giorno e tornavo. Oggi io non prendo l'aereo per venire da Bologna a Roma perché in due ore sono in treno, se abitassi a Torino prendere l'aereo per dire cosa questo? Che oggi l'apertura mentale, culturale che il vostro settore ha garantito è quella che ha costituito maggiormente la realizzazione di un progetto di Europa comune. Perché i nostri giovani possono vivere esperienze condivise anche in altre nazioni grazie a voi, non grazie all'Interrail, non grazie a altre forme di trasporto. La possibilità di costruire un tessuto anche valoriale comune, culturale comune, è frutto dell'accorciamento delle distanze temporali. E allora, e chiudo idealmente dove avevo iniziato, scusandomi se ho fatto il bigname, però è necessario che tutto ciò venga elaborato con una condivisione di dati. E io mi auguro e mi impegnerò per questo che ci sia una condivisione nell'accesso dei dati, un'elaborazione comune, un rispetto reciproco, una confidenzialità nella condivisione, una condivisione anche negli obiettivi. Massimo rispetto per gli obiettivi che ci sono stati posti a livello comunitario che noi intendiamo traguardare, attenzione, ma intendiamo farlo con un principio di sostenibilità. Ma per sostenibilità per noi è ambientale, ecologica, economica, sociale. Non intendiamo penalizzare la nostra patria e il nostro popolo per obiettivi che diversamente diventano ideologici e non concretamente fattivi. Grazie.